Siamo sempre sulla notizia per non fermarsi soltanto alla notizia siamo tra la gente notizie aggiornate verificate per offrirvi sempre di più dentro la notizia nuovi contenuti nuove sinergie la velocità l'immediatezza di uno staff sempre pronto 120 secondi di aggiornamento news sia in video che in radio ogni ora dal lunedì al sabato un gruppo al servizio delle notizie